Cari Fautori ben ritrovati su Fauteric Minute Network in compagnia del vostro Jungement su Hollow Knight. Allora, come promesso l'ultima volta abbiamo trovato il potere delle ali, io sono già arrivato fino a un punto diciamo che non potevamo esplorare prima, questo quassù, adesso vedete che semplicemente con le ali riusciamo ad andarci quindi non perdiamo tempo e andiamo subito a vedere cosa ci riserve il futuro o di quale morte moriremo che anche questo non è assolutamente scontato, solo che non ho salvato, io spero di non morire vediamo dai, rischiamo, ma se ci sarà una situazione un po' troppo critica non so se c'è una panchina qua in giro magari, qua intanto c'è una porta, qua c'è uno stronzo, uè amico, addio, ah no, qua c'è un altro, questo poi va anche, spara, uno, due e tre guarda che bene che vogliamo là c'è un'altra porta chiusa ah, qua c'è il simbolo di una panca che non sarebbe assolutamente male, guarda facciamo subito, tac, che così siamo qui ah bene, stiamo anche costruendo ovviamente la mappa della zona, fantastico orca puttana che trambata guarda che cavolo fai, voli di là mi sembra che ci fosse solo la panca, sì, direi di sì, perché non vedo continuazioni però anche se dal segnalino rosso mi dà un passaggio in giro, adesso vedremo ho capito, no, no, non volevo, non volevo non, no, non è questo che volevo, ah, lasciatemi uscire ma guarda a te, non era quello che volevo, sono scivolato, non volevo essere qui ah, guarda dato tumore così poi pensiamo a sto altro porca puttana zio bombi che botte porca troia, mi tira delle trambate da mal di testa, sti cazzi non volevo finire qua però a fugire ma baffanculo sì, ma io non volevo finire qua adesso però guarda, sì, ma c'è troppa gente qua sotto non so se c'ho modo di uscire io guarda dai muori però cazzo ho paura che se mi tira c'è il tecropito stronto che porca puttana eccolo puoi morire per cortesia oh amen grazie e va a fanculo anche te la andremo a fare anche un salvataggetto di ah si è aperta anche questa fantastico adesso andremo a vedere cosa uno no dove cazzo vai no no vieni qua due e tre perfetto allora perché non avrei voglia di rifarlo anche se non è stato nulla di difficile però non ho voglia ah e lì dovrebbe esserci ancora un passaggetto vedete là sulla destra andiamo a vedere se lo peschiamo ah sarà qualche però no ok andiamo a vedere verso giù oppa là salve no aspetta che cazzo volete tutti qua però c'è un po' troppa gente allora dove è questo altro imbecille ok no no non corro non corro aspetta che mi curo e poi corri avanti ok ok perfetto abbiamo aperto sto passaggio per arrivare qui eh bicchiare uno a caso farei i bullotti e fumo i bulli ah ah qua c'è un ascensore crashato ostia allora andiamo di qua perfetto perfetto adesso andremo su tipo arrampicata sportiva la mamma mia ah ok qua andiamo ancora avanti andiamo a vedere vai ma paffa porca sì ma se io li vado addosso però ragazzi è un po' cercarsene ah qua cosa c'è il ritratto di famiglia ok forse non possiamo andare in teoria ok vediamo ok guarda siamo tipo a casa loro penso in qualche modo opa lì beh muori però dai cazzo ti sto dando oh basta no dammi i ghè ok era quello che volevo allora poi verso dove andiamo avevamo un passaggio questo non me lo ricordo aspetta ah c'è l'ascensore sì eh se no da vediamo se qua mi ricollego solo da quest'altra parte pontile pontile apriamo una porta ok male non fa eh no c'è un mondo qui c'è un mondo l'ascensore un'altra panchina ah ma aspetta ok si è solo no ah quindi qua non era che era troppo alto ma non riusciamo a passare perché c'è la porta che invece adesso abbiamo aperto perfetto io posso togliere il segnalino quindi ok perfetto piano 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 non essere riluento e facci il nono vai va va andiamo su vai di qua andiamo su quindi mi sa che nel dubbio andremo su ah a cazzo stai andando tanto su oh ah è lì non è che ci devi andare dall'altra parte aspetta che vediamo se riusciamo a liberarlo ah no ah che palle dai vieni qua vieni qua vieni qua vieni giù dai scendi e muori cazzo ah no lì c'è un cancello eh che però per dire che dobbiamo battere lui per aprire il cancello sicuramente ok ok ci metteremo un po' per liberare il lombrico perché abbiamo siamo nobili di cuore d'animo oh poi la bene più facile del previsto è a posto questo mi apre il cancello sì l'ha liberato un altro mimo mimo e via mamma mia bravi siamo degli eroi e adesso andiamo a vedere invece andando su da quest'altra parte dove cazzo andiamo eh però qua mi sa del boss fighter signori aspetta che cazzo è va che l'umpezzi aspetta oh aspetta aspetta io come vado così dove vado saltiamo la boss fight così oppa madonna scusate che cazzo ho fatto danni ho tirato giù un lampadà oh caputa no 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 che cazzo è è salve io va non è vero eh cavaliere guardiano e lui si sarà incazzato perché gli ho disfatto oh cristo si ma come ti combatti aspetta aspetta ah ok per le rotolate porca puttana no 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 ehi ma che siete mati cattivissimi 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 signori questi allora ma fa giornata il cazzo non ci serve la corda il gheo mettiamo il solito classicone questo sto pensando se tolera e aumentare la potenza degli incantesimi però non so se è una buona idea in realtà potremmo provare questo che serve gli animi quando si viene colpiti perché se avremo colpiti svariate volte allora proviamoci è aumentata di recuperare l'anima oh come cazzo si arrivava di là ok si non so se va un paio di tentativi li facciamo giuda un paio di tentativi li facciamo perché vanno fatti però non ho capito sta cosa che gli ho spaccato un lampadario se serviva a qualcosa o meno ah forse ho rotto un cazzo si svegliano tutti e quattro serio cinque e e niente mamma che paura ma io riesco in qualche modo ad ucciderti prima che svegli gli alpi ma donna mi stanno a fare il culo però e vabbè ragazzi però che cazzo no vabbè vabbè un casino un casino brutto anche un casino brutto sti gran cazzi sto pensando come oh vabbè dai però che palle se devo rompermi le palle ogni volta con questa e non romperle dai si prendi vabbè no sto pensando se c'è un modo ok oppa scusa scusa vabbè scendeva l'ascensore un attimino ha finita maglia per lui l'abbia schiacciato tipo una lattina o come si faceva con i succhi di frutta a scuola li faceva esplodere noi li abbiamo fatto con lui vabbè ci perdonerà ci perdonerà ma qua io no qua l'ho già fatto quindi non si però se si deve svegliare tutti questi che cazzo ragazzi cazzo uno due subito ha rotto la vaffanculo ah vedi 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 e che cazzo però che uno ruota la porca puttana si vabbè vabbè la minchia eh mi fanno proprio il culo più che altro così senza saperne di scrivere perché troveremo la soluzione però dopo e sono solo in due dopo spesso si risveglieranno tutti e sarà una festa non so se altri potenziamenti non penso ah scusa prima ti ho ammazzato non volevo ciao grazie non lo so cazzo se si svegliano tutti come cazzo faccio forse devo puzzare avanti di merda ma non penso no vai tu è subito addos eh più che altro cazzo per ammazzarne uno ci ho messo in eternità eh sì madonna eh no no non mi sento assolutamente performante sta scusa perché appena la matsu uno ci vuole mi sono fatti i colpi mi serve qualcosa che mi dia più potenza ma ce l'abbiamo qualcosa ancora più forte l'odore eroico eh potremmo provare questa aspetta perché tanto penso non so cosa intendo allora per vicino alla morte però tentare non nuoce cioè si ci nuoce al culo ma allora proviamo a togliere questo eh tirano via questo e proviamo a mettere questo vediamo cosa succede se improvvisamente diventiamo tipo cattivissimi o chissà dio vai scendi noi non moriamo schiacciati siamo più forti vai 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 spingiamo vai eccoci eccoci facciamo gli impianti recuperati via chiude la pack vai è lui il primo No, non sono riuscito a saltare Però forse non è vero Questa di averne ammazzato uno Invece non è vero Madonna, guarda Ma baffanculo Ho visto che si è diventati più cattivi Però Eh Potremmo Togliere questo Ci sta questo? No, non ci sta Ci serve un incavo in più Questo forse non ci serve Ne togliamo questo Così usiamo più incantesimi Vabbè, questo costa uno Quindi vabbè, le lasci Ho meno portata Ma tanto ci vengono addosso Quindi a portata forse non ci serve A granché Vai, riproviamo Via Ormai questo episodio O lo finiamo riuscendoci Che onestamente Non la vedo proprio facilissima O nel tentativo di Poi casomai L'episodio prossimo Andrò A esplorare altre parti Per vedere se Troviamo qualcosa che ci dà forza O qualche negoziante Se ci sia qualche chicca Che ci può servire No, come mi hai colpito No, che stronza di anima Vai, vai Scusa Non so Anche che cazzo è successo Guarda te Siamo esplosi tutti Siamo esplosi tutti Pazzesco Brava Dai, vaffanculo Anche te Va a cagare Va Siamo pregati qua In torre del guardiano E ovviamente I guardiani dell'attore Sono delle pigne in culo Cosparse di sabbia Dai Eh Ah, che stronzo Però Quando ho fatto la cosa Vaffanculo Mamma mia Non so come li ho evitati Tutti e due Ah, stronzo Magari se non so più Quali è chi Eh, vaffanculo Va Maledizione Dai Uno, due E tre Potrei forse Prendere quello Che ci dà anime Quando veniamo colpiti Cioè, giocarsi da tutto Sulle anime Invece che Quella Quella culia Quello che mi dà anime Quando vengo colpito Dopo vediamo Proviamo ancora Questo tentativo Così Poi Vediamo Ecco Devo andare via Veloce Che stronzi Secondo me È lui Quello nostro Sì 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 No No Eh, vabbè Vabbè Eh, vaffanculo A culo va Sono Ah Aspetta Allora Questo non so se ci serve Questo lo lasciamo Provate che Viene sia a rimanere inquadente Per un periodo di tempo maggiore Mentre si ripara dai danni Potrebbe interessarmi Eh, però cazzo Dove è? L'aumento della potenza degli incantesimi Quindi c'è il problema di giocare tutto sui incantesimi Dopo devo sfruttare molto di più le pareti qua in realtà Perché loro non sparano niente A parte i rimbalzi ma non rimbalzano mai sulle pareti Quindi Eh, bacca, gara Mi hai rotto un po' le palle anche, dai Ma anche mi insegui Ma sei una testa di bastardo Vai, vai Devo ricordarmi di giocare più sulle pareti Secondo me sulle pareti Posso Però non so se mi Eh Aspetta Perché se io qua e faccio questo Vediamo Cazzo Eh Mi ha fatto paura questa Che c'è qua Mi ha preso No, sei No Ehi Che stronzo Mi ha venuto tutto il po' a prendere Che stronzo Ok, ok Allora ragazzi Li Combatteremo Sicuramente Non adesso perché Non mi sento moralmente pronto Però Tentrò di capire un attimino E Vedremo il prossimo episodio Se combatteri direttamente O se veder di trovare qualcosa di Nei negozi Veder qualcosa di più potente Io comunque vi ringrazio per Questo Questa compagnia In questo breve episodio E ovviamente vi do appuntamento Al prossimo Perché ormai insomma Ci vorranno ancora dei episodi Perché comunque li faccio sempre corti Però Ci avvicineremo alla fine del Di Hollow Knight finalmente Insomma Mi invito come sempre a mettere Mi piace su tutti i nostri social E vi do appuntamento Alla prossima Ciao ragazzi